Il Presidente Rampelli. La ringrazio Presidente. La prima notizia è che manca, non solo il Presidente del Consiglio, sarebbe auspicabile, non abbiamo anche chiesto, ma anche il Ministro dell'Economia, pur stando discutendo da poco tempo, i tempi come sappiamo tutti sono stati davvero ingenerosi quelli lasciati dal Governo e dalla maggioranza al Parlamento, della legge di bilancio. Quindi una legge che viene in aula una volta all'anno ed è la madre di tutte le leggi perché dalla stessa dipendono i destini degli italiani. Scherzando si può dire tutto, anche la verità, diceva Sigmund Freud. E quindi io voglio, senza che voi ve la prendiate a male, cercare di fare una breve disamina su quello che ci troviamo comunque di fronte, perché in tanti, anche da parte della maggioranza, riservatamente, ma pure pubblicamente, insomma, interventi agli atti della Commissione e anche agli atti del Parlamento italiano, hanno teso a sottolineare una sorta di ulteriore, se possibile, mortificazione del Parlamento italiano messo alle corde dal Governo in un rapporto asimmetrico dove il Parlamento, per responsabilità esclusiva della maggioranza, non riesce a reagire ad atti di assoluta protervia. Nel Governo degli Stati ci sono diverse formule e tutti quanti noi le conosciamo a menadito. C'è la formula del presidenzialismo, c'è una forma di democrazia diretta. I cittadini danno uno potere importante, direi quasi straordinario, ma i cittadini lo danno al Presidente della Repubblica o al Capo del Governo, a seconda della formula di cui si parla. Poi c'è la modalità parlamentarista. Il parlamentarismo è di fatto una forma di democrazia indiretta. Il Parlamento dovrebbe dare un indirizzo e un'indicazione anche nella formazione di un Governo, nella scelta del Capo del Governo e quasi sempre, quando la democrazia funziona in maniera normale, dovrebbe scegliere il Capo del Governo all'interno di coloro i quali sono stati comunque giudicati e scelti a loro volta dal popolo italiano. Beh, diciamo che da Ciampi in poi, Ciampi, Dini, Monti, Conte 1, Conte 2, Draghi, questa normalità si è praticamente dispersa nel porto delle nebbie. Non possiamo più ambire a una democrazia compiuta e ci troviamo di fronte a questa sorta di democrazia indiretta con tanto di commissario esterno. Poi c'è la formula del totalitarismo che degenera nella dittatura e tutti quanti la condanniamo, però diciamo che c'è chiarezza quando c'è la dittatura. Si sa che c'è comunque un conculcamento delle libertà fondamentali, c'è un conducator prepotente, arrogante e chi lo vuole scalzare deve combattere con tutte le sue energie per poter riconquistare la libertà. Poi c'è l'oligarchismo, che è una sorta di regime politico caratterizzato dalla concentrazione del potere effettivo nelle mani di una minoranza, che opera, leggo una definizione non mia ma proprio per questo oggettiva, contro gli interessi della maggioranza. La tendenza all'oligarchia è qui il problema, perché non basta, cari colleghi di maggioranza o di opposizione, stare qui a piangersi addosso, perché la legge di bilancio è atterrata nel Senato della Repubblica il giorno 19 di novembre, perché le sedute dedicate dalla Commissione di bilancio del Senato o quello della Camera sono state davvero severamente menomate di ogni capacità di intervento. Noi dobbiamo anche capire che cosa sta accadendo nel nostro sistema politico, se possiamo ancora definirci all'interno di una sorta di democrazia consolidata, se il popolo italiano, anche attraverso il filtro, il passante al vaglio del Parlamento italiano, è comunque tutelato e garantito nelle sue prorogative. Ci sembra di capire che così non è e siamo molto preoccupati, perché diversamente dalla dittatura, c'è il dittatore, lo devi scalzare, l'oligarchia si manifesta in maniera invereconda, sottile. L'oligarchia, soprattutto quando è gestita da tecnocrati, è fluida. C'è una sorta di sovrappotere che pervate tutto. Diciamo le cose come stanno. Gli stessi ministri della Repubblica italiana non sanno che cosa sia questa legge di bilancio. Le leggi di bilancio, teoricamente, vengono di fatto costruite dai funzionari e dirigenti dei ministeri, ma in pratica vengono assorbite delle indicazioni che provengono da altrove. Da altrove. È questo il punto. Noi siamo estremamente preoccupati. Dovrebbe esserlo qualunque parlamentare della Repubblica italiana, perché la democrazia è obiettivamente in pericolo. È un'affermazione forte, senz'altro. Ce ne assumiamo la responsabilità, mentre proferiamo parole così gravi. Ma è esattamente quello che sta accadendo nell'indifferenza generale. E nell'indifferenza generale, scherzando, si può dire tutto, anche la verità, non possiamo non constatare che si ristrutterà con un milione per tre anni la piscina del Comune Centrovalle in Telvi, località San Fedele, che il Governo dei Migliori sancisce che verranno dedicati due milioni in questa legge di bilancio per il rifaricimento lungomare di Nicodera, che 400 mila euro andranno al viadotto della valle Brembilla, 400 mila euro ai cento anni, per carità, per la morte di Enrico Berlinguer, ma io penso che queste robe qui possano stare dentro i dispositivi del Ministero dei Beni Culturali, che può, attraverso bandi, utilizzare i fondi di cui già è in possesso per fare anche operazioni culturalmente rilevanti, piuttosto che mettere dentro una legge di bilancio. È improprio lo strumento, non è tanto il tema del merito su cui ci si va a misurare. Un milione di euro va all'orchestra giovanile Luigi Rubini, 500 mila euro per tre anni all'associazione Senza Spine e all'associazione musicale Gasparo da Salò, alla società cooperativa Sandif Diffrazioni Sonore, all'associazione filarmonica di Benevento, all'Ensemble Mare Nostrum, all'associazione filarmonia e orchestra giovani europei, alla chiesa San Pietro in Colle, comune di Caldiero. Poi c'è una ristrutturazione, secondo norma antisismico, della scuola Leopardi di una scuola Leopardi, comune di Trofarello, per tre anni, e la ristrutturazione di una palestra della scuola Giacomo Leopardi. Via discorrendo, perché ci sono 200 mila euro per gli 80 anni dalla Fondazione della Democrazia Cristiana, che vengono elargiti alla Fondazione De Gasperi. Ricordo, così sommessamente, che abbiamo anche dedicato nella scorsa legge di bilancio, quindi la questione è patologica, centinaia di migliaia di euro per festeggiare il centenario del Partito Comunista Italiano. Peraltro, senza neanche particolare, diciamo così, sobrietà, visto che proprio ora, proprio ora, ricorre il trentesimo anniversario della caduta, fortunatamente, del comunismo e dell'Unione Sovietica. Quindi, diciamo così, di un tentativo di conquista da parte del popolo russo e dei popoli europei, conseguentemente alla caduta del muro di Berlino, di conquistarsi delle libertà che erano state conculcate nello spazio di decenni. La cosa stravagante è che dentro tutto questo pacchetto la maggioranza, attraverso un emendamento, ha voluto inserire il decreto antifrode, attraverso un emendamento. Un decreto antifrode che evidentemente non è efficace verso il Parlamento, che invece viene frodato letteralmente per le modalità con cui vi presentate al suo cospetto. Nel merito delle questioni trattate, ve l'abbiamo detto e lo ripetiamo in lungo e largo, c'è la questione annosa del reddito di cittadinanza. Noi non ce l'abbiamo certamente con disoccupati, figurarsi. Orgogliosamente continuiamo a rappresentare la destra sociale e popolare che comunque interpreta i bisogni di tutte le categorie in maniera trasversale, ma in modo particolare delle categorie più fragili. Però, a coloro i quali sono disoccupati, va dato un lavoro. È il lavoro che consente, attraverso la conquista della dignità, l'emancipazione di una persona. E se questi quattrini fossero stati dati, secondo la formula, più assumi, meno paghi, emendamenti presentati da Fratelli d'Italia, alle imprese, forse avremmo nel corso del tempo avuto persone formate, anche nei tre anni dati, al terzo anno o si stabiliva un rapporto fiduciario tra la persona assunta e l'impresa e quindi il rapporto si stabilizzava o nel caso di un licenziamento, chiamiamolo così, comunque la persona che usciva dall'impresa sarebbe stata migliore di prima perché avrebbe imparato un mestiere. Abbiamo la questione del superbonus. Voi avete raggiunto dei risultati, noi ve li abbiamo anche colleghi della maggioranza e governo certificato, ma il tema del superbonus non è soltanto il rinvio e la rielaborazione delle modalità al 2023 al 2025, c'è un tema grande come una casa che voi avete finanziarizzato questa enorme possibilità di ripresa economica di un settore storicamente trainante per la nostra economia. Quando si parla di superbonus bisogna avere chiaro quello che sta accadendo. Intanto il 30% di quello che è investito viene intercettato e metabolizzato dai general contractor, cioè dalle finanziarie, dalle grandi multinazionali, dalle grandi imprese o dalle banche che trattengono il finanziamento e fanno da banca nei confronti dell'impresa. Senza fare niente si mettono in tasca tra il 20 e il 30% del contributo. Poi c'è il tema importantissimo della incapacità di sviluppare la filiera industriale. Se voi non fate un provvedimento sul superbonus rendendolo strutturale, non il reddito di cittadinanza, il superbonus deve essere strutturale e non dite alle industrie che realizzano mattonelle piuttosto che calci, cemento, piuttosto che ponteggi che hanno 10 anni a disposizione per ammortizzare i costi degli investimenti, è ovvio che nessuno realizzerà questi materiali e se non vengono realizzati significa che noi andiamo a cercare approvvigionamento fuori dai confini nazionali e quindi andiamo di fatto ad arricchire altre imprese, altre economie nazionali. Concludo, Presidente, anche se c'erano altri argomenti che avrei volentieri sviluppato, avete perso ancora una volta purtroppo nell'incrocio col PNRR approvato attraverso il decreto poche settimane fa l'occasione per far produrre nuova ricchezza all'Italia, per abbassare la pressione fiscale, per intervenire sul culo fiscale e quindi abbattere il costo del lavoro, per mettere in tasca ai lavoratori due terzi dell'intervento che si potono fare con gli otto preferibilmente 12 miliardi e un terzo alle imprese, avete fallito ancora una volta questo obiettivo ma quello che è più grave rispetto anche alle marchette che ho citato è che di fatto concludo Presidente avete commissariato la democrazia italiana con personalità di alto profilo ma lo avete fatto per futili motivi perché non ci voleva né il Presidente illustrissimo Mario Draghi né questo esecutivo sospendendo la democrazia per fare una legge di bilancio così meschina grazie grazie Presidente grazie a tutti